Buon pomeriggio telespettatori di Nettuno TV, buon pomeriggio anche che ti segue sulla nostra pagina Facebook, l'avete già visto spuntare con la testina, allora buon pomeriggio anche a Mario Giuliano. Ciao Giacomo, un saluto a tutti. Buona Pasqua fatta a tutti. Tanti tanti cari auguri di Buona Pasqua, parliamo di calcio, parliamo di Bologna, oggi per questa puntata di Nettuno Sport, come ogni martedì non ci soffermiamo tanto su quello che riguarda il discorso Bologna, avremo modo e tempo da domani, in vista della gara contro le Empoli di sabato, di parlare del mondo rosso-blu. Oggi, come dicevo prima, tutti i martedì facciamo un po' la panoramica sul campionato di Serie A. Già la settimana scorsa avevamo cominciato a parlare di lotta Champions e di lotta salvezza, guardando la classifica e guardando anche un po' quello che sarà il futuro di queste squadre, oggi dedichiamo la nostra mezz'ora proprio ad analizzare il momento delle squadre che stanno in alto, quindi che dovranno raggiungere le Coppe Europee e di quelle che stanno in basso, che dovranno ovvero mantenere la categoria. Abbiamo due immagini dalle quali partire, due grafiche pubblicate oggi dalla Gazzetta dello Sport, che abbiamo ripreso grazie all'online, che riguardano la volata salvezza e che riguardano la volata invece per la Coppa Europea e la volata Champions. Tra poco, grazie alla nostra regia, le vedremo per cominciare a farci un'idea. Questa è la lotta Champions, grazie alla regia, come detto in precedenza e come evidenziano anche i credits in basso a destra, sono immagini di Gazzetta dello Sport. Intermina l'Atalanta-Roma-Torino-Lazio per puntare almeno al quarto posto e la lotta invece per non retrocedere, la lotta salvezza, la volata salvezza che vede coinvolte adesso a partire dal Sassuolo al dodicesimo posto, poi tutte le altre fino al Frosinone prima del Chievo. Già retrocesso. Prima di entrare nel dettaglio e analizzare questi due aspetti, Mario dimmi la tua subito su questo tema. Guarda Giacomo, un tema interessante perché comunque ieri l'Atalanta, possiamo dire, colleziona un altro successo importante a livello proprio di chiave europea perché come vediamo dalla classifica, comunque da quella che è poi questa volata, la vittoria con il Napoli poi ti proietta ai 56 punti con il Milan, soprattutto con un punto dietro la Roma e poi per carità 5 punti di differenza con l'Inter, ma nel paradosso sono 5 punti che se si guardano anche gli scontri diretti, leggevo prima sempre sulla Rosa, come si definisce la Gazzetta dello Sport, si sottolinea come tra i vari incassi, in eventuale arrivo a pari punti potrebbe comportare un vantaggio per l'Atalanta con l'Inter, un vantaggio per l'Inter sul Milan, quindi diversi incassi interessanti. È una, credo, volata che poi verrà decisa in questi cinque turni, in particolare proprio dal calendario, perché adesso noi possiamo osservare, però in realtà nel paradosso la squadra che potrebbe essere più favorita sembra essere nel paradosso la Roma, perché comunque hai Cagliari, Genoa, hai una Juventus che potrebbe avere, sì, un qualche ripensamento, ma credo che queste partite importanti comunque non le mancherà. Sotto alcuni aspetti puoi avere l'Inter che è la prima partita con la Juve, quindi nell'eventualità dovesse perdere e non far risultato, sai, il discorso è che hai in mezzo squadre, che due squadre su quattro che hanno ancora da dire qualcosa in ottica salvezza, quindi un Udinese che giustamente in queste giornate se le giocherà tutte, quindi non sarà un cliente facilissimo. Poi è anche vero che bisognerà andare a capire quanta voglia ci sarà di Inter, rispetto a come vediamo prima, adesso qui c'è la grafica per quanto riguarda la parte della salvezza, però vedendo e tornando un attimo alla schermata precedente, oltre per quanto riguarda l'Udinese c'è poi l'Empoli, quindi questo tutto a fine giornata, gli ultimi turni, però forse ci sono alcune squadre che dovrebbero dire la loro. Nel paradosso l'Atalanta, che sta avendo questo ruotino importante, ha da incontrare però squadre come il Lazio e Juventus, soprattutto la Lazio perché ha una corsa in Europa, quindi queste squadre qui credo che lotteranno un po' fino alla fine, fino a quando la matematica un po' non le condannerà. Il Torino ha delle sfide importanti perché ha il Milan ed è una contocorrente diretta. Sì, poi adesso realizziamo una per una. Esatto, alla Juventus, però credo che sia molto bello vedere questa volata, ad oggi ti posso dire che forse l'Inter ha qualcosa in più, però bisogna guardare i punti, ma è anche vero che quest'Inter è particolare, te lo dicevo anche prima, adesso il buon Giacomo mi sorride, però ti dirò è particolare perché alla fine l'Inter è sempre stata padrone di se stessa, quindi potrebbe succedere di tutto nel paradosso. Vorrei potermi andare in onda dei fuori onda di oggi davanti al caffè. Dove tu dicevi, ah no, io allora, perché vedendo l'Inter è un Inter che tra virgolette mi preoccupa un po', ma semplicemente perché può veramente buttarsi via sotto alcuni aspetti, ma non perché non sia in grado di gestire alcune cose, ma perché alcune partite può incontrare avversari dove per un attimo può perdere più che altro, nel senso la testa, cioè perdere un po' quell'equilibrio che sta ritrovando. Per il resto, tra queste, paradossalmente mi sembra che l'Atalanta sia proprio quella più vogliosa, quindi ad oggi ti potrei dire Inter e poi io credo che Lazio e Torino molleranno, la Roma è avvantaggiata, però è una Roma altalenante, l'abbiamo sempre sottolineato, il Milan ha troppi interessi in campo e l'Atalanta nel paradosso può giocare questo fattore leggerezza, perché comunque gioca un calcio veramente leggero, sta conquistando punti importanti, quindi credo che alla fine si giocherà poi su Milan e Atalanta, però secondo me anche la Roma lì. Partiamo magari analizzando squadra per squadra il campionato che avrà da qui alla fine, queste ultime cinque partite, abbiamo già detto in parte dell'Inter non ci torniamo troppo su, secondo me arriveranno e chiuderanno al terzo posto, anche perché i cinque punti di margine che hanno con Milan sono punti tanti, sono tanti punti dal mio punto di vista, poi è vero che sabato giocano contro la Juve, è vero che avranno anche il Napoli, i nerazzurri di Spalletti, però poi le altre squadre sono Udinese, Chievo ed Empoli, io capisco il tuo discorso del pazza Inter che può fare di tutto, però... Io sottolineo solo questo, poi andiamo dalle altre, sottolineo solo che dopo la Juventus hai un Udinese, e per carità sulla carta è naturale che l'Inter tolte Juventus e Napoli, hai tre partite fattibilissime, però sono tre partite con due squadre all'interno che se oggettivamente hanno bisogno di punti, sai, giocheranno, adesso io non dico questo, però poi è naturale che sulla carta, ma anche per garantire il fatto che magari determinate squadre possono affrontare queste partite in un determinato modo, purtroppo l'Inter di Spalletti sotto alcuni aspetti, alcune partite di questo tipo, è indicefrabile, nel senso fai difficoltà, quindi è solamente questo, poi è naturale che la classifica, l'augurio è che l'Inter continui questo percorso, sia chiaro, ma come magari vedendo il Mina, però queste sono le partite poi più importanti, cioè tra virgolette non interessa con la Juve, perché con la Juve può essere una partita di tutto, però poi i punti come hai sottolineato tu le fai con queste squadre qui, e queste squadre lottano purtroppo per una retrocessione, poi arriveremo all'ultima partita con l'Empoli che sarà retrocessa, con l'Udinese che già salva, non lo so. Sì, sull'Inter si vedrà, però secondo me ha comunque un margine di cinque punti, importante, è un calendario che a parte due sfide, Juve e Napoli, che secondo me comunque non sono scontate, visto anche Napoli e Atalanta di ieri sera, può veramente fare comodo all'Inter, poi vedremo. Il Milan ha il Torino, il Bologna, la Fiorentina, il Frosinone e la Spal, anche in questo caso onestamente mi viene da dire che il Milan di Gennaro Gattuso, come vediamo in questa immagine, abbia, non dico la strada spianata, però abbia la possibilità di chiudere il campionato al quarto posto, mi spiego meglio, è vero che ha pari punti con l'Atalanta, ma l'Atalanta secondo me avrà partite un po' più complicate, è chiaro che Milan-Torino vorrà dire tanto nella prossima giornata, poi il Milan incontrerà il Bologna, bisogna vedere come arriverà il Bologna, quella partita, se sazio, tra virgolette, rispetto alla gara contro l'Empoli, o con la fame di dover vincere a tutti i costi, poi ci sarà un Milan-Fiorentina, Fiorentina è un'altra squadra che in questo momento è di difficile comprensione, squadra che vuole fare bene, ma che non ha più alcun tipo di ambizione in questo campionato, e poi soprattutto il Milan chiude contro Frosinone e Spal, Frosinone probabilmente dal mio punto di vista che sarà già retrocesso in quel momento, e Spal invece che secondo me l'ultima giornata sarà già belle che salva. Guarda, il Milan è una squadra particolare, ma anche una situazione particolare, perché comunque adesso col fiato sul collo dell'Atalanta, è nel paradosso più il Milan che ha paura di perdere qualcosa che non l'Atalanta, adesso se torniamo un attimo indietro anche alle schermate di quelle che sono, quelle partite che tu hai ben citato, nel paradosso il Milan incontra nel suo percorso una squadra importante, che è una diretta concorrente, comunque alla quale bisogna strappare punti in Europa, che se non sbaglio è il Torino. Il Torino, mi ha dato un'altra. Esatto, e poi comunque... Abbiamo la grafica con il grafico. Esatto, grazie mille. Quindi tra queste partite, come hai sottolineato tu, le ultime tre non le consideriamo neanche, ma nel paradosso perché? Perché in realtà andando verso la fine, come hai detto tu, la Fiorentina non ha, tra virgolette, una grande ambizione, la Fiorentina ormai ha fatto questo campionato. Il Frosinone, salvo situazioni di recupero, ma molto difficile, soprattutto vedendola verso la fine, con la Spal, se dovesse essere già salve, io credo che la Spal non andrà a creare problemi. Però le prime due, cioè Torino-Bologna, perché? Perché il Torino è una tua diretta concorrente. E si gioca a Torino. E si gioca a Torino. E quindi sai, il Torino, adesso guarda la classifica, il Torino se vince comunque ti arriva, arriva a 56 punti. Poi tra gli scontri diretti non ricordo come è stata fatta l'andata, però negli eventuali scontri comunque tu sei lì. Poi hai un Bologna, perché il Bologna nel paradosso rientra, e ne parliamo un attimo, solo perché il Bologna gioca con l'Empoli sabato, ma nell'eventualità potrebbe esserci un problema del tipo l'Empoli fa risultato al Dallara, io credo che Mijalovic per forza di cose dovrà fare una buona prestazione contro il Milan, quindi comunque non vorrà sfigurare. Quindi si trova nel paradosso due squadre che vogliono chiudere un discorso. E forse in questo caso il Milan deve un attimo un po' prendere tutto quello che ha a disposizione per evitare che comunque si possano perdere punti, perché guardando sempre quel calendario famoso, come abbiamo detto prima, l'Atalanta ha una serie di situazioni, una serie di risultati e di squadre dove comunque tu puoi andare a prendere un po' di punti. Andiamo a vedere l'Atalanta, Milan-Torino finì 0-0 l'andata, quindi di fatto ci si gioca tutto in questa partita. L'Atalanta gioca con l'Udinese che ha bisogno di punti salvezza questo weekend, poi c'è la sfida con la Lazio, quindi scontro diretto, poi c'è l'Atalanta-Genua, poi c'è la sfida contro la Juve, la sfida contro il Sassuolo. Mi permetto di dire che il calendario dell'Atalanta sia un po' più complicato rispetto a quello di Milan-Inter, e poi vedremo dopo Roma, perché c'è la sfida comunque con la Juve, c'è la sfida con la Lazio che secondo me diventa uno scontro diretto per la squadra di Gasperini. È vero che Gasperini è lanciatissimo con i suoi giocatori, con Ilicic devastante ieri sera nella partita contro il Napoli, però ci sono anche altre partite non scontate, perché l'Atalanta-Genua e l'Atalanta-Udinese, secondo me l'Atalanta può fare molto bene, ma non vuol dire vittoria assicurata perché l'Atalanta è al quinto posto e l'Udinese è quinto l'ultima. Ma ti ripeto, qui viene fuori un po' il discorso del fatto che le squadre comunque andranno ad affrontare e questo è un discorso generale, perché comunque all'interno di queste cinque squadre che noi elenchiamo e vuoi o non vuoi nel percorso ci sono squadre che lottano tra virgolette per un altro campionato che poi a breve andremo a vedere che è quello della salvezza. Quindi credo che qui verranno messi in campo a parte i valori, ma proprio una situazione del fatto che uno giocherà il tutto per tutto queste ultime cinque partite per non retrocedere, per avere una salvezza tranquilla. Quindi sai, se durante questo campionato tu affronti l'andata in un discorso particolare, il ritorno, soprattutto se è un fiato sul collo che è quello di un rischio di una retrocessione, non so fino a che punto cioè tu debba stare tranquillo, perché il classico discorso da fare è che o me la gioco adesso e gioco fino alla fine o altrimenti cioè non devo avere rimpianti. Quindi sai, per alcune squadre può essere un vantaggio, per altre non si sa, perché magari l'Empoli arriverà spompata alla fine e l'Inter ne approfitta. Però il problema è che l'Atalanta incontra un Udinese che è comunque la prossima avversaria, quindi già si giocherà un po' il tutto per tutto. Sono un incastro importante, sono questi incastro che poi io credo determineranno molto, anche forse se rifacciamo questo discorso già tra due giornate vedremo... Ah no no, tanto il martedì parliamo di questo. Eh ma è quindi, ci troviamo sempre qui. Codiamo la tabellina. Esatto. Salto l'Atalanta perché ne abbiamo già appena parlato. Andiamo alla Roma. Cagliari, poi Genoa, poi Juventus, Sassuolo e Parma. Se la Roma di questo signore qui non fa scherzi nel senso che affronta le partite con la testa giusta secondo me può fare 12 punti. Sì, fa 12 punti. 12 su 15 perché ci mette la Juve in mezzo e la Juve obiettivamente è una squadra che può batterti sempre anche se le ultime giornate hanno fatto vedere che può succedere di tutto. Però la Roma col Cagliari, con il Genoa, con il Sassuolo e con il Parma potenzialmente 12 punti li può fare e qua ritorna clamorosamente in lotta per il quarto posto. Sì, assolutamente sì. Ed è un punto dal Milan. Assolutamente sì e per quello che dico che forse la Roma come hai sottolineato anche tu e ne parlavamo anche fuori onda durante il caffè che è comunque la squadra più avvantaggiata a livello di calendario. Potresti trovare quelle registrazioni. Potresti trovare quelle registrazioni di quei momenti. Sì, magari aveva attiva la camera quella di sicurezza. Però, ma non so, adesso facciamo le richieste di registrazioni. No, parte questo. ha un calendario forse tra quelli più facili ma tra le cinque che hai elencato semplicemente perché hai anche squadre che non hanno una lotta così spietata per salvarsi. Qualcuno dovrà aggiustarsi a livello di... Cagliare da Salve. Quindi, cioè, non penso che il Sassuolo debba salvarsi. Il Parma potrebbe ma non credo perché alla fine il Genoa anche... Cioè, sai, sono squadre che se hanno necessità di prendersi dei punti anche qui magari andranno a giocare con una situazione diversa. Ma è anche vero che la Roma mette sul piatto il fatto di prendersi un posto in Europa e in questo caso questo posto potrebbe essere il quarto posto e quindi, sai, anche qui bisogna avere nervi saldi capire un po' questa Roma che come ti ho sottolineato prima spesso e volentieri ogni tanto perde un po' la retta via quindi potrebbe essere stessa un po' e lei è un po' padrone del proprio destino. Torino e Lazio vivono due momenti diversi perché obiettivamente il Torino ha 53 punti può ancora sognare la Champions non era l'obiettivo di inizio anno però è sempre stato arrivare in Europa uno degli obiettivi di Cairo e Mazzarri soprattutto quando è arrivato Mazzarri l'anno scorso e quest'estate vivono due momenti diversi perché la Lazio aveva fatto di tutto per entrare almeno nelle prime sei e rischia di perdere quel treno il Torino invece ha cercato di farlo da outsider intanto c'è un inzaghi perplesso in questa immagine il Torino da outsider può provare a rientrarci quindi anche psicologicamente sono due momenti molto diversi pensi che possano lottare anche queste due fino alla fine oppure sono un po' dietro le altre? credo che sia il Torino che la Lazio hanno qualcosa in meno rispetto a quelle che abbiamo citato prima anche dell'Atalanta anche dell'Atalanta perché l'Atalanta come ti ho sottolineato forse è il momento proprio di osare di più quindi l'Atalanta un po' è la faccia di questo campionato l'Atalanta ti affronta a viso aperto non ha paura comunque cavalca l'onda dell'entusiasmo quindi sai l'Atalanta è una squadra che se anche dovesse subire una brutta sconfitta nell'eventualità andando a incontrare la penultima partita che è la Juventus nel senso comunque prima giocherà a viso aperto con il Genoa e poi c'è uno scontro un po' diretto con la Lazio quindi sai anche qui io credo che tra le due chi ha più fame vince in questo momento l'Atalanta ha un po' più di fame ma semplicemente perché questo risultato che sta ottenendo nel paradosso non ha mai sbagliato nel senso che quando è arrivato in Europa ha fatto una grande cavalcata adesso potrebbe coronare un sogno Champions ci proverà fino alla fine poi magari può andare a subire tre sconfitte di file poi le ultime due potranno non dire nulla però ad oggi pensierata invece la Lazio deve fare un po' di conti anche con quello che ha all'interno perché c'è un Immobile che forse vive un momento non benissimo sotto l'aspetto del gol una squadra che tutto sommato ci prova però qualche piccolo problema può averlo e quindi sai manca questa cosa qui il Torino è lo stesso cioè credo che queste due al momento hanno qualcosa in meno ma ti ripeto è una classifica talmente corta che nel paradosso basta che le prime tre facciano un risultato negativo e le due facciano un risultato positivo che un po' va a cambiare tutto e Arrigo Sacchi oggi su Gazzetta dice il metronomo chi andrà in Champions in Europa lo decide la Juve perché la Juve va ad affrontare l'Inter va ad affrontare l'Atalanta va ad affrontare la Roma va ad affrontare il Torino e quindi di fatto tra le Lazio e Milan gioca contro tutte queste squadre esatto perché poi se la Juve decide di allora poi parliamo di lotta a salve esatto la Juve non butterà via comunque non regalerà quello che è il derby d'Italia quindi sarà comunque una partita importante e l'Inter dovrà fare i conti con la squadra che comunque ha vinto l'ennesimo scudetto con una squadra che comunque è forte una squadra che è solida adesso che se ne dica però in campionato domina la Juve quindi l'Inter dovrà fare una grande partita se vuole prendere punti alla Juve lo stesso le altre squadre credo che la Juve comunque vorrà coronare mantenere quella che è un po' la sua imbattibilità barra il suo nome quindi sapere che è una squadra che è difficile da affrontare sono avvantaggiate chi non le affronta perché le ha già affrontate è nel paradosso però è anche vero che dovrà essere un po' la Juve a decidere sicuramente credo che nel paradosso la Juve farà più danno con l'Inter perché è una partita che conta ma anche per quello che c'è attorno per tutta la rivalità il derby d'Italia il derby d'Italia e questo però magari con altre dipende pure come le incontri perché le incontri adesso qualcuno le incontra alla fine qualcuno le incontri nella metà quindi anche qui è una questione di equilibrio però conoscendo la Juve credo che non è che ti regalerà molto lotta salvezza cambiamo pagina andiamo a vedere la grafica di quello che invece è il percorso delle squadre che dovranno salvarsi anziché chiedo alla regia se oltre a questa immagine possiamo vedere la classifica generale per renderci l'idea ecco grazie mille di quello che è il momento Juve-Napoli-Inter Milan Atalanta-Roma Torino-Lazio è quello che abbiamo visto fino a questo momento Samp che di fatto non lotta più per nulla così come dal mio punto di vista Cagliari e Fiorentina e poi dal Sassuolo in giù invece bisogna cominciare un po' a stare attenti Sassuolo e Spal 38 Parma 36 Genua e Bologna 34 Udinese 33 Empoli 29 Frosinone 23 Chievo 14 già retrocesso Mario partiamo da Chievo-Lazio anzi da Lazio-Chievo partita che non voleva dire nulla che non significava nulla dall'esito scontato vince il Chievo 2-1 sul campo dei Bianco Celesti questo cosa vuol dire che il Chievo è già retrocesso ma non rinuncerà sicuramente a giocarsi il suo campionato per ovvi motivi e dal mio punto di vista anche molto giustamente Sassuolo è la prima squadra da prendere in considerazione per la lotta a salvezza oppure anche la Fiorentina non può stare sicura o viceversa dal Parma in giù cioè da chi è a 36 in giù deve cominciare a preoccuparsi Credo che forse dal 36 in giù forse è il pensiero maggiore adesso chiedo un attimo alla regia di far vedere un attimo la classifica della lotta a salvezza semplicemente perché grazie mille perché adesso vediamo nel paradosso e che scendendo giù cosa notiamo? Notiamo che comunque questi 38 punti prendendo di riferimento la terza ultima che è l'Empoli ci sono 9 punti sai questi 9 punti francamente nel senso sono 9 punti sono una distanza ampia sono tanti 5 partite sono tanti quindi esatto partendo qui se guardo la Fiorentina addirittura la Fiorentina ne ha 11 in più quindi sai quindi non vado a preoccuparmi lì posso partire dal Parma ma semplicemente perché se qualcuno prova a fare dei risultati penso che l'Empoli deve provare a farli tutti allora può arrivare però addirittura vorrei usare e dire che se proprio bisogna guardare qualcosa si guarda veramente il Genoa 34 a proposito di questo direbbe un messaggio che c'è scritto Carlo sulla pagina Facebook vi ricordo il commentare di seguire con noi la diretta Carlo dice il Genoa rischia sì il Genoa rischia infatti faccio complimenti a Carlo perché l'ha sottolineato io credo che proprio nel discorso qui guardando la classifica nel senso a 36 punti con il Parma puoi essere tranquillo ovviamente mettendoci in conto qualche punto in più che ti fai Carlo però dice anche il Parma rischia secondo me il Parma no ma anche perché comunque ha fatto un pareggio importante fermando il Milan in casa e comunque sai col Milan con il Milan proiettato Champions è un risultato importante per come anche è maturato il Parma qualche altro punto lo farà adesso non mi ricordo di preciso il calendario c'è Parma-Chievo anzi Chievo-Parma Parma-Sampdoria c'è la parita contro il Bologna e poi Fiorentina-Roma a chiudere cioè forse con la Roma si ha bisogno di punti però io credo che con le altre bene o male sono molte X quindi comunque i punti ci sono rischia più il Genoa perché nel calendario che abbiamo sottolineato a parte che incontra squadre che vanno a lottare dall'altra parte per la Champions però il Genoa anche ha una situazione particolare perché regala grandi prestazioni a situazioni di buio totale forse è una di quelle squadre che veramente si alterna molto a questo quindi sottolineo do ragione a Carlo perché mi sembra che sia più il Genoa rischiare rispetto al Pano perché il Genoa pare a Bologna esatto quindi forse e sai deve guardarsi un po' indietro perché comunque mancano cinque partite però credo che già da sabato si delineerà qualcosa perché se l'Empoli fa risultato a Bologna si riapre e allora il Genoa bisognerà andare a capire cosa farà e sai sono incassi importanti sai già questo turno è un turno importante perché l'hai detto te c'è Bologna-Empoli la gara dell'anno sì certo ma credo anche per l'Empoli a questo punto crocevia e poi c'è c'è Spal Genua c'è Chievo-Parma e insomma ci sono tre scontri diretti sono tre scontri diretti Chievo-Parma non è uno scontro diretto però comunque il Parma se il Parma allora se il Parma garantisce una buona prestazione comunque col Milan ha giocato ha giocato bene poi il Milan per carità ha trovato tante situazioni però il Parma mi ha fatto i complimenti perché comunque hai fermato una squadra che è in lotta per la Champions ed è una squadra che sicuramente ha molto più di te io credo che Parma-Chievo sia più scontato il fatto che il Parma faccia lì risultato quindi forse con la vittoria con il Chievo il Parma sia giusta matematicamente no però abbastanza bene per quanto riguarda il discorso della permanenza in Serie A le squadre che hai citato tu il Genoa rischia molto perché? perché se l'Empoli fa risultato se comunque il Genoa come sottolineavi tu va a giocarsela con la Spal nella classifica anche la Spal ha bisogno di punti per cercare tra virgolette di mettersi bene quindi sai però sono partite io credo cioè contano più queste partite iniziali adesso guardando il calendario che non quelle finali quindi forse tra le prime due già noi delineeremo credo quella che sarà proiettata verso la B ad oggi rischia l'Empoli però guarda io ti dico la mia l'Empoli ha un brutto calendario ma è anche vero che è una squadra che ogni tanto tira fuori veramente dal cilindro dei punti sai poi lì sono quelle situazioni ad incazzo perché lo farà all'inizio magari non riuscirà a fare alla fine però Empoli-Bologna e anzi Bologna-Empoli scusate Fiorentina-Empoli Sampdoria-Empoli Empoli-Torino Inter-Empoli cioè in sintesi lasciamo da perdere andate e ritorno l'Empoli gioca contro Bologna-Fiorentina-Sampdorino ed Inter è un calendario difficile difficile molto difficile ti dico puoi provare cioè l'Udinese paradossalmente a 33 togli la gara con l'Atalante con l'Inter però le ultime tre partite le gioca con squadre o già retrocesse perché secondo me il Cerosione a quel punto sarà già retrocesse il Cagliere è già saldo quindi sai le ultime tre gare per l'Udinese possono essere in discesa l'Empoli ha un calendario difficilissimo perché comunque è un Bologna che vuole blindare il proprio risultato una Fiorentina che magari non vuol dire più nulla però è il derby e quindi va onorato una Sampdoria che guardando un po' la situazione è un po' lontana forse dalla situazione Europa però bisognerà anche capire un po' come saranno messe le altre ma nel senso puoi anche fare un risultato con la Sampdoria perché hai visto che la Sampdoria quando non gioca però tu dopo vai a trovare due squadre che come ti dicevo prima se il Torino si trova in una zona dove alla penultima partita mi servono i punti il Torino va cercando punti se l'Inter non è questo il caso ma nell'eventualità l'Inter come dicevo prima può essere un attimo e si ritrova a giocarsi una distanza con l'Empoli l'Inter deve dare fuori una grande prestazione l'Empoli deve dare fuori una grande prestazione quindi sai gli incroci sono questi è interessantissimo come calendario sia a livello di salvezza che a livello di volata per l'Europa e quindi da vedere sì sì assolutamente però ad oggi vedo più l'Empoli Andrea ci scrive retrocederanno quelle tre stando generico sul quelle tre che può voler dire tutto ma direi che parla di chi è un Frosinone ed Empoli Frosinone non ha più speranze no credo di no mi spiace perché comunque in alcune partite ha tirato fuori anche dei punti utili però guardando adesso la distanza e guardando quello che è un po' il calendario credo che in ogni caso comunque le squadre che anche il Frosinone che andrà ad incontrare sono squadre che avranno bisogno di qualche punto adesso non ho presente il calendario completo però se non sbaglio deve avere ecco grazie mille hai il Napoli Sassuolo hai già l'Udinese Milan e loro punti ne hanno bisogno quindi già diciamo che queste squadre giocheranno per prendersi dei punti il Napoli penso faccia risultato con il Frosinone ma anche per una questione a questo punto mentale quindi sai forse il Frosinone la vedo già spacciata e poi all'ultima partita c'è il Chievo ma sarà un po' uno scontro sì forse a quel punto le cose saranno già delineate quindi sintetizzando il tutto ci sono squadre che possono stare un po' più tranquille tu dici dalla Spali in su perché 9 punti a 5 barri dalla fine sono tanti essendoci anche tanti scontri diretti le altre rimangono nella bagarre però con Empoli e Frosinone che rimangono un po' più con il piedino più in Serie B che in Serie A assolutamente sì sono le prime due partite che ci saranno adesso di calendario penso andranno a decidere un po' già le sorti però facendo questa distanza con la terz'ultima e col Parma sono tanti punti e come sei ottenuto tu in mezzo ci sono anche tanti scontri che non sono così scontati ci sono tantissimi scontri diretti per esempio partiamo considerando il Parma c'è Parma-Bologna c'è Genoa-Spal c'è Genoa-Cagliari che comunque ce lo metto in mezzo nonostante tutto l'Udinese giocherà contro la Spal giocherà contro il Cagliari contro il Frosinone l'Empoli contro il Bologna e basta di fatto perché dopo giocherà con squadre che sono più in alto in classifica il Frosinone di queste squadre fronte all'Udinese il Chievo già retrocesso e il Sassuolo quindi questa giornata che arriva la 34 con Empoli-Bologna con Parma-Chievo e con Genoa-Spal secondo me fa capire veramente se possiamo dire che a quattro giornate dalla fine ci sono squadre che si possono ritenere già salve e ci farà capire anche se ci sono se invece tutto verrà riaperto mettiamo caso che Bologna batte l'Empoli va a più otto va a più sette scusami no va a più otto va a trentasette scusa a quattro dalla fine ed è un buonissimo margine e l'Empoli è abbastanza spacciato a quel punto però se l'Empoli dovesse fare risultato a Bologna è chiaro che tutto si riapre così come se l'Udinese non batte la tanta e se il Giro non batte la spada si riapre tutto poi di solito la soglia media della salvezza sono i 40 punti adesso chi ci arriverà con tre pareggi chi ci arriverà con una vittoria chi ci arriverà magari con due pareggi e bisognerà anche capire cosa faranno le altre quindi sai Giuseppe ci dice l'Empoli è imprevedibile il Bologna deve fare una grande partita coprendosi adeguatamente dietro assoluto no concordo perché l'Empoli comunque viene a giocare qui sapendo che cos'è la ultima spiaggia quindi sai è la partita che ti permette di riaprire un campionato e andartela a giocare oppure mettere una distanza difficilmente colmabile perché comunque non puoi fare affidamento solo sugli eroi degli altri quindi l'Empoli arriverà qui con venta guerrita ma perché deve fare questa partita così il Bologna deve fare una grande partita di attenzione semplicemente perché è una squadra che tu puoi controllare visto le ultime prestazioni che hai fatto controllarla perché comunque è la tua diretta concorrente quindi se tu riesci a domare l'Empoli guadagni tantissimo e comunque rimani in serie A sì Giuseppe è vero l'Empoli è imprevedibile però il Bologna è nettamente più forte secondo me dal mio punto di vista poi da giovedì a sabato da domani a sabato ne parliamo però il Bologna si aspetta l'Empoli non è il Bologna di sinistra mi ha poi può succedere di tutto perché è la gara più importante ma interpretata anche forse in una maniera diversa però vedremo hai 45 secondi per dirmi ufficialmente le tre che retrocedono le quattro che vanno in Champions e le due che vanno in Europa League ad oggi allora Empoli Frosinone Chievo e poi in Europa dovrebbero andare a Napoli vabbè Juve Napoli Inter sai ho un dubbio pazzesco però alla fine io ti dico Milan e poi per quanto riguarda l'Europa League Roma e Atalanta sono d'accordo a metà con la Roma non sei d'accordo lo so però in base al calendario ad oggi dico più Roma di Milan anch'io però sapete io ho pensato questo risponde Roma allora io metto un po' di pepe e dico Milan quindi già lo sapevo Giuseppe dice dall'area fondamentale che sia pieno infernale per dare un supplemento di energia alla squadra è diventato l'uomo in più veramente rispetto alle ultime partite abbiamo sforato ovviamente grazie Mario grazie a te un saluto a tutti Giacomo teniamo le registrazioni così tra 5 settimane andiamo a vedere cosa abbiamo detto e ogni martedì facciamo un filogo di quello che sarà il calendario di volta in volta grazie a voi che ci avete seguito e che ci sono scritte su Facebook buon proseguimento di serata